Per farvi un esempio di cosa sono i momenti di trascurabile felicità, questo è un esempio perfetto, cioè Riccardo Stagliano è evidentemente messo in piedi tutta questa storia solo per fare questa cosa del timer perché gli piace tantissimo e questo è un momento di trascurabile felicità che è un modo di pensare alle cose della quotidianità, un modo di stare al mondo, ecco io adesso ve ne farò un mio elenco al quale aggiungerete il vostro, un elenco di 17 minuti e 30 secondi 29 adesso, il giorno in cui sta per scattare l'ora legale o solare perché non si capisce mai se questa volta scatta l'ora solare al posto della legale o quella legale al posto della solare e se la notte dormiremo un'ora in più o in meno, questo è causa di discussioni estenuanti che si protraggono oltre l'ora dello spostamento delle lancette vanificando pure l'eventuale ora di sonno in più perché c'è sempre qualcuno che pure quando gli hai fatto dei disegnini sulla carta non è convinto e dice che secondo lui è il contrario, cioè che dormiremo un'ora in più e non un'ora in meno come dite tutti o un'ora in meno e non in più. Quando sbadigli o dici di aver fame o sonno c'è sempre qualcuno che ti ricorda che è illogico perché sono le 10 ma è come se fossero le 11, sono le due ma è come se fosse l'una e poi quando alle 7 della sera il sole è ancora alto e ti commuovi perché ormai hai capito che è arrivata la primavera e dici che bello le giornate si sono allungate ti dicono che non è esattamente così perché è vero che sono le 7 ma è come se fossero le 6 ed è soltanto per questo che il sole è ancora alto e così torni subito triste. Però è bello quando nell'angolino basso della prima pagina sul giornale c'è il disegnino dell'orologio con la didascalia che dice stanotte ricordatevi di mettere le lancette un'ora avanti e il giorno dopo quando dice vi siete ricordate di mettere le lancette un'ora avanti. Entro in un negozio di scarpe perché ho visto delle scarpe che mi piacciono in vetrina le indico alla commessa dico il mio numero 46 lei torna e dice mi dispiace non abbiamo il suo numero e poi aggiunge sempre abbiamo il 41 e mi guarda in silenzio perché vuole una risposta e io una volta solo vorrei dire e va bene mi dia il 41. In Norvegia una volta ho noleggiato un'auto e mi sono reso subito conto che lì il limite di velocità viene rispettato in modo pedisseco mi spiego i norvegesi sono pochi quando percorri le strade incontri un'altra auto ogni tanto ogni tanto può voler dire anche ogni 40 minuti questa auto sta andando a 50 all'ora se il limite è 60 percorri molti altri chilometri superi un'altra curva e vedi un'altra auto sola che giustamente procede pianissimo rispettando il limite di velocità e allora mentre apprezzavo sinceramente il loro livello di civiltà altrettanto sinceramente ho scalato la marcia ho messo la freccia e ho cominciato un unico lunghissimo infinito sorpasso che è talmente fuori dalla capacità di percezione degli scandinavi che dopo un paio d'ore davanti a me non c'era più nessuno avevo sorpassato tutte le auto che percorrevano l'intera Norvegia quel giorno davanti a me non c'era nessuno più nulla c'ero solo io ero il primo tra tutti i conducenti di auto in Norvegia e a quel punto ho accelerato perché per un momento mi apparsa nella testa un'ipotesi che mi rendeva raggiante era solo un'ipotesi ma valeva la pena provarci correre di più e ancora perché se avessi corso così in fondo alla strada a un certo punto ho pensato che sarebbe stato possibile vedere apparire le auto norvegesi del giorno prima quando mi hanno spiegato che la prima convocazione della riunione di condominio alle sei di mattina era soltanto formale e non ci dovevo andare quando nei bagni pubblici nei ristoranti nei locali c'è scritto uomini e donne e non ci sono delle figure dei disegni stilizzati sui quali devi stare a pensare un po' per capire qual è il bagno delle donne e qual è quello degli uomini in un locale una volta c'era da una parte la fotografia di stan laurel stanlio e dall'altra quella di oliver ardi olio dopo un po' di esitazione aprì deciso la porta di olio e dentro c'erano i maschi non so perché uso infatti molte volte perché la parola che viene fuori dalle mie corde vocali in modo del tutto autonomo quando sono imbarazzato anche quando qualcuno mi dice ho letto il tuo libro è un capolavoro infatti dico perché non so cosa dire e mi rendo conto che sto confermando che è un capolavoro ma non riesco a dire un'altra cosa anche se sto pensando non devo dire infatti ho letto il tuo libro fa veramente schifo infatti dico e mi rendo conto che sto dicendo che anch'io penso che il mio libro faccia schifo una volta è successo che ho detto infatti quando una donna mi ha detto ti amo mia moglie quando era una ragazza è stata fidanzata per molto tempo con un ragazzo che si chiama michele per anni quando raccontava di averlo incontrato oppure che aveva avuto notizie di michele i suoi familiari dicevano sempre ma chi michele nostro quando ci siamo sposati da quel giorno in poi quando si parla di michele anch'io ho cominciato a dire con una certa soddisfazione ma chi michele nostro ogni tanto mi sono appartato e ho cominciato a spedire sms in quella formula inventata apposta alla nascita di questa forma di comunicazione e cioè un frullato di ambiguità sfacciataggine e pudore abilmente miscelati in modo tale che riesce a mandare sempre dei messaggi fortemente allusivi che potrebbero essere letti anche in modo per niente allusivo e a seconda della risposta si arriva in fondo a una strada o all'altra in fondo a voglio scoparti adesso gridandoti puttana oppure ci sentiamo presto saluto tutta la famiglia tutte e due partendo dallo stesso messaggio ambiguo sfacciato pudico l'altra caratteristica miracolosa degli sms e che poi ignorarli completamente quando poi hai una conversazione telefonica con la persona con che hai scambiato gli sms un minuto prima o il giorno prima e riesci a fare delle fate lunghe senza che mai si accenni e si sfiori l'ambiguità o l'intimità come se le due persone che si sono mandate sms molto azzardati un minuto prima fossero dei fratelli gemelli che in realtà non c'entrano nulla con noi che stiamo parlando di cosa fai quest'estate e come va il lavoro almeno fino a quando riagganciamo e dopo 20 secondi di nuovo spedisci o ti arriva un sms di tono completamente diverso rispetto alla telefonata appena conclusa come se le telefonate fossero le parole e gli sms i pensieri che ci sono dietro però i pensieri di un'anima profondamente cattolica che li pensa ma non li pensa fino in fondo li diluisce in un'ambiguità giustificatoria che rende pudichi e più rende pudichi più fa montare la spacciataggine e da lì in poi gli ingredienti del frullato sono pronti sul tavolo a volte ho tenuto in piedi soltanto con la tecnica degli sms almeno 4 5 possibilità in contemporanea per vedere come andavano a finire quando il cameriere torna al tavolo con la bottiglia di vino che abbiamo scelto stappa la bottiglia annusa il tappo e poi guarda tutti i presenti per scegliere chi debba assaggiare il vino e non sceglie me non si è mai capito perché ma quando vomiti ci deve essere qualcuno che ti tiene la testa ti mette il palmo della mano sulla fronte e assiste a una scena schifosa è diventato una consolitudine così accettata che quando ti viene da vomitare il primo istinto che hai è guardare chi ti sta vicino e fargli uno sguardo implorante che vuol dire ti prego tienimi la testa e in ogni caso chiunque ti sta vicino istintivamente quando ti vede vomitare corre verso te e dice aspetta che ti tengo la testa sono profondamente grato a tutti quelli che mi hanno tenuto e mi terranno la testa quando mi viene da vomitare questo è legato all'intervento di prima quando qualcuno ha ripreso in poco tempo tutti i chili persi con una dieta faticosissima che io per qualche giorno sono stato molto tentato di fare e poi come al solito non ho fatto l'inizio dei film porno quando sono vestiti e non si conoscono quando la donna con cui dormo ha capito che ognuno deve dormire dal suo lato che ci si può abbracciare prima o quando ci svegliamo la mattina ma quando si dorme bistogna stare ognuno per i fatti suoi dividendo il letto con la stessa meticolosità con cui si tracciava la linea di divisione del banco con il compagno di banco a scuola ho perso uno scusate quando si scaricano le pile del telecomando rimango per giorni seduto sul divano con in mano il telecomando proteso verso il televisore con il braccio steso che arriva fin quasi davanti allo schermo e con un dito che preme ripetutamente a lungo sul tasto del canale che vorrei vedere con il polso che esegue varie torzioni per riuscire a trovare la posizione giusta in cui possa far incontrare le ultime energie delle pile esauste con i raggi infrarossi dello schermo qualche volta poi è necessario sbattere il telecomando sull'altra mano o su un piano di buona durezza per costringerlo a risvegliarsi è un'operazione irrazionale e chiaro ma il fatto è che riesce alla fine riesce sempre e poiché riesce i colpi violenti verranno ripetuti innumerevoli volte e di più man mano che le pile andranno verso la morte domani giuro compro le pile dico ma domani resterò là sul mio divano intento a colpire il tavolino con il telecomando c'è gente che ha un atteggiamento reattivo esce immediatamente e va dal rivenditore più vicino con una pila vecchia per indicare il tipo e si fa dare le pile nuove torna a casa e inserisce le pile nuove e tutto continua come prima non li capisco proprio e poi mi piace tantissimo fare dei ragionamenti e delle discussioni inutili con chiunque a proposito di Dario Fo se il merito è anche di Franca Rame la frequenza con cui si legge sui giornali che qualcuno farà la voce di Pierino e il lupo di Prokofiev come fanno le varie strisce del dentifricio acqua fresca a restare indipendenti una dall'altra dentro e fuori il tubetto e forse anche nella cavità orale quando il prete va verso il leggio vi trova un enorme libro e lo apre all'incirca alla metà e comincia a leggere e poi dopo un po' cerca un segnalibro tipo striscia di stoffa dorata e salta avanti di molte pagine poi dopo un altro po' va di nuovo molte pagine indietro e poi di nuovo avanti e poi di nuovo indietro è possibile che in tanti secoli nessuno abbia mai pensato di fare una nuova edizione ragionata del libro della messa mettendo le pagine in ordine cronologico così da evitare tutti quei segnalibri un'edizione semplice che comincia all'inizio e finisca alla fine perché il benzinaio ti dice sempre un po' più avanti per favore e perché te lo dice sempre quando è appena spento il motore quanti sms ci sarebbero in meno se si eliminassero tutti i messaggi con scritto ok perché se discutiamo violentemente su questioni politiche a un certo punto qualcuno dice in fondo stiamo dicendo tutti la stessa cosa ma in maniera diversa e infine e infine davvero la mia fissazione ossessiva per la questione del martello frangivetro che pongo a chiunque incontri in treno non so se lo avete presente è rosso fuoco lucidissimo assolutamente desiderabile è appoggiato a due sostegni è il marchio dell'FS e il nuovo di Zecca davvero quando lo vedi la prima cosa che pensi è adesso lo frego e lo porto a casa ecco ora questo martello rosso fuoco sta all'interno di una bacheca di vetro in cui c'è scritto martello frangivetro non so se mi sono spiegato il martello frangivetro sta all'interno di una bacheca di vetro ora io spero come credo che lo abbiano inventato per rompere i vetri dei finestroni in caso di emergenza perché sarebbe impadrezzante se servisse a rompere proprio quella stessa bacheca di vetro che lo protegge a questo punto a me il dubbio viene e mi sembra legittimo ma voglio essere fiducioso e pensare che la cosa più logica è che lo abbiano messo lì per i finestroni e poi per proteggerlo dai bambini o da quelli come me che intendono portarselo a casa lo hanno coperto con una bacheca di vetro ma io come faccio a prendere un martello frangivetro all'interno di una bacheca di vetro se non con un altro martello frangivetro o con qualsiasi altra cosa frangivetro e se io trovo un affare frangivetro qualsiasi perché dovrei rompere il vetro della bacheca per prendere il martello e non rompere direttamente i finestroni come si fa a immaginare che in un momento di panico come quello che probabilmente si vivrà nel caso fosse necessario procurarsi il martello frangivetro ci si procuri qualcosa per frangere il vetro che protegge il martello frangivetro e con questo successivamente provare a frangere il vetro dei finestroni è come nel monopoli quando prendi la carta degli imprevisti che dice se non siete già in prigione andateci e fermatevi per tre turni ma mio caro signor monopoli se io fossi in prigione come potrei prenderla la carta degli imprevisti me la devono regalare o me la deve portare qualche parente nell'ora di colloquio al posto delle arance grazie